Ciao a tutti, vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio al Villaggio Russo. Molti saranno i momenti dedicati alla formazione. Ebbene sì, per noi, per tutto il Movimento 5 Stelle, un cittadino attivo non può che essere un cittadino ben informato e un cittadino formato. Per questo, anche grazie al lavoro dei facilitatori regionali della formazione, abbiamo per un mese e mezzo tenuto un calendario fitto di appuntamenti, di webinar, che hanno dato la possibilità a tutti gli iscritti e non solo di partecipare a momenti di formazione. Adesso, il 25 e il 26, dedicheremo un insieme di appuntamenti proprio per aiutare non solo i nostri candidati sindaci, i nostri candidati consiglieri, ma tutti i cittadini che vogliono avere gli strumenti necessari e utili per poter dare il loro contributo per cambiare il Paese. Un abbraccio e vi aspettiamo!